Presidente Massimo Bitonci, come commenta il voto della Giunta e il video messaggio di Silvio Berlusconi? Ci aspettavamo un video messaggio di questo tenore, 16 minuti anche intensi, dove però abbiamo notato quello che emerge in maniera estremamente chiara, è che Berlusconi dice che questo governo non ha fatto assolutamente niente per l'economia e per la crisi economica, poi c'è un attacco diretto alla magistratura e questo rilancio di Forza Italia, quindi facendo una sintesi e per commentare il video messaggio noi abbiamo subito detto che a questo punto bisogna staccare la spina al governo e chiediamo a Berlusconi che riveda la sua posizione e che quindi si va da elezioni anticipate, perché non penso che bastino lui ha parlato di ministri Sentinella, alcuni ministri Sentinella per portare avanti quegli obiettivi che ha citato più volte nel video messaggio, tra cui i problemi legati alla crisi, all'aumento delle tasse, alla burocrazia, cioè nulla è successo in questi mesi, tutti i provvedimenti inutili e quindi l'unica alternativa è andare nuovamente al voto.